Giulia Dell'Ellis Le ultime critiche relative a un presunto riavvicinamento con Andrea Damante devono averle fatto perdere la pazienza. Così è arrivata la dura risposta della web influencer direttamente sui social. L'attacco di Giulia è stato rivolto in particolare a chi la critica e continua a farlo. Ma soprattutto a chi non si fa i fatti suoi, come ampiamente sottolineato dall'ex Jeffina. Nel dettaglio, Giulia si mostra in un video, dove riferisce il racconto di una fan, che avrebbe visto lei, e Andrea insieme al ristorante. Dopo aver chiesto loro una foto di coppia, la fan in questione, avrebbe ricevuto un netto nod alla Dell'Ellis come risposta. Al che, sul popolare social network, l'ex corteggiatrice di uomini e donne ha così deciso di rispondere a tono. Chiuse virgolette siete pesanti come le M e R di asterisco. Io non nego foto con nessuno, faccio foto con tutti. E se mi voglio rivedere con il mio ex sono s-t-r-a-c-a-sterisco-zi miei e lo faccio. Evidentemente questo non deve essere stato proprio quello che si definisce un buongiorno per Giulia Dell'Ellis. Gossip sui D'Amelis, Giulia Dell'Ellis e Andrea Damante continuano a rimanere i protagonisti indiscussi di questa estate 2018. I due sono sempre al centro dell'attenzione, soprattutto da quando sono tornati a farsi vedere pubblicamente insieme. La fine della relazione dell'ex coppia formata sia uomini e donne sembrava essere qualcosa di definitivo. Ma invece qualcosa pareva stesse cambiando proprio in questi ultimi giorni. Dopo il primo avvistamento della coppia, la diretta interessata ha però deciso di rompere il silenzio. La fashion influencer ha così spiegato ai suoi fan, cosa sta davvero succedendo con Damante. La giovane romana aveva per l'appunto dichiarato di non essere tornata insieme al DJ, ma di non considerarlo neppure solo un amico. Dopo nuovi silenzio, la ragazza ha ora sputato di nuovo il rospo, come si suol dire, spiegando che cos'è che la lega all'ex cronista. La fan che nei giorni scorsi ha incontrato la coppia, ha detto che con loro c'erano, anche una signora e un ragazzo. Questi ultimi potrebbero essere stati quasi di sicuro la mamma e il fratello della dell'Hellis. La fan ha quindi domandato di poter fare una foto insieme ai due ex del trono classico, ma loro gli hanno risposto di no. A quanto pare, dunque, i due si trovano ancora nella fase dei cosiddetti chiarimenti. Per il momento, con evidenza, preferiscono quindi mantenere ancora un po' le distanze tra loro, e con i fan riguardo alla loro situazione sentimentale. .